e adesso mi sono arrivati da quei tre ragazzotti che stanno entrando una ragazza e due ragazzi guarda che ha proprio un po' più gassi ma ho detto ho detto i 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.